Sabato 19 ottobre, il caos di Terni, Dalla Republic, omaggio a Lucio Dalla, Giovanni Tasca è l'ideatore. Intanto ti chiedo, perché un tributo a Lucio Dalla? Ah vabbè, perché Lucio a parte è number one e poi diciamo che è partito tutto il 4 marzo del 2017 e ogni Dalla praticamente è sempre stato diverso, questo grazie al patrimonio musicale e artistico che ci ha lasciato Lucio. Ecco, quindi ecco, ci dà la possibilità di mutarci sempre. Come si svolgerà questa serata? Un omaggio a Lucio Dalla, quindi immagino tante canzoni conosciute al grande pubblico, insomma ne ha scritte tantissime. Sì, tantissime, poi anche quelle magari meno, quei lati B che rimangono un attimino sotto. Sì, musica, ci sono dei cantanti strepitosi, ci sono dei musicisti fantastici e degli ospiti veramente eccellenti che hanno sposato la causa dello spettacolo e del... eccolo. Ecco, Fabio Ceccarelli, Lalo Cibelli, Marco Caporicci, Stefano Fucili, ospiti della serata, ricordo sabato 19 ottobre. Sì, il costo di 15 euro, poi ecco il netto del ricavato va a questa associazione Amici di Pietro per Colle Scipoli che è un'associazione giovane nata da poco e che sta facendo tanto a livello sociale qui nel territorio e soprattutto nel reparto oncologico dell'ospedale Santa Maria di Terno. Quindi venite. Anna e Marco, futura, l'anno che verrà, il più reato, scovilo, scovilo. Vi diamo tutti gli appassionati di Lucio Dalla, insomma, questa serata. Assolutamente sì, venite perché è a fin di bene, soprattutto il Dalla fa questo perché il Dalla è beneficenza. Sabato 19 ottobre, ore 21, al Teatro Secci. Grazie Giovanni. Grazie a te e un saluto a tutti. Ciao.